Cosa hanno in comune delle pietre giganti, delle perline colorate e delle conchiglie? In questo video dimostreremo ciò che la maggior parte degli economisti proprio non riesce ad afferrare. In primo luogo che un denaro facile da produrre non è affatto denaro. E in secondo luogo che il denaro facile non rende la società più ricca. Anzi, la impoverisce, costringendola involontariamente a svendere ciò che ha faticosamente guadagnato in cambio di qualcosa che è facile da produrre. Ciao a tutti e bentornati, sono Claudio e su questo canale scompongo concetti complessi relativi all'economia in maniera semplice da comprendere per tutti. L'antico sistema basato sulle pietre Rai dell'isola di Giappa in Micronesia è una delle forme di denaro più interessanti da studiare nel corso della storia. Capire la loro straordinaria storia fornisce una lezione chiave su come il bene denaro, privato della sua caratteristica fondamentale di essere difficile da produrre, perda inevitabilmente il proprio ruolo monetario. Gli abitanti utilizzavano come moneta delle enormi pietre circolari di diverse dimensioni, con un buco al centro che arrivavano a pesare anche diverse tonnellate. Queste pietre erano desiderate per la loro bellezza e rarità. Infatti procurarsele era estremamente difficile perché queste pietre non esistevano sull'isola. Occorreva una spedizione con zattere e canoe nelle isole vicine di Palau o Guam e un laborioso processo di estrazione che poteva richiedere il lavoro e il sudore di centinaia di uomini. Una volta arrivate agli app venivano collocate in delle posizioni prominenti dove tutti potevano vederle. Il proprietario di una determinata pietra poteva utilizzarlo senza la necessità di spostarla. Lui ne avrebbe semplicemente annunciato il passaggio di proprietà e l'intera popolazione ne avrebbe preso nota. Da quel momento il beneficiario avrebbe potuto utilizzarla a sua volta per un pagamento. Non c'era quindi modo di rubare una pietra perché tutti sapevano la pietra a chi appartenesse. Le pietre IAP avevano un rapporto riserva flusso o stock to flow in inglese molto elevato. Ho già parlato di questo concetto in un altro video e metterò il link in descrizione. In breve che cosa vuol dire? Per quanto fossero desiderate queste pietre sull'isola era davvero complicato per qualcuno inflazionarne la quantità perché era veramente difficile produrne. O almeno fu così fino al 1871 quando un capitano irlandese americano di nome David O'Keefee naufragò sulle coste dell'isola IAP e fu rianimato dagli abitanti della popolazione. La storia di O'Keefee ha anche ispirato un romanzo dal nome Suama Estao Khafi che è anche poi stato trasformato in un film. O'Keefee una volta rianimato vide subito un'opportunità di profitto nel vendere le noci di cocco dell'isola ai produttori di olio di cocco ma non aveva mezzi necessari per incentivare la gente del posto a vendergliele o a lavorare per lui perché erano tutti molto contenti della loro vita in questo paradiso tropicale ma soprattutto non erano affatto interessati a ciascun mezzo monetario al loro sconosciuto. Una volta scoperto il valore di quelle pietre per quegli indigeni O'Keefee si procurò una grande imbarcazione dell'esplosivo e si procurò tantissime pietre dall'isola di Palau O'Guam offrendole in cambio di noci di cocco. Contrariamente alle sue aspettative gli abitanti del posto non furono molto entusiasti nel ricevere queste pietre. Il capo del villaggio vietò addirittura di accettarle in cambio di qualsiasi prestazione dichiarando che non avessero valore proprio perché prodotte troppo facilmente. Come forma di pagamento dichiarò che potessero essere accettate soltanto quelle estratte con il sudore e il lavoro degli uomini ma purtroppo alcuni dissentirono e procurarono le noci di cocco a O'Keefee causando numerosi conflitti tra gli abitanti dell'isola. In questa storia altamente simbolica O'Keefee non fu altro che il messaggero dell'inevitabile declino che quelle pietre avrebbero avuto come mezzo di moneta. Era infatti inevitabile che qualcuno prima o poi sarebbe stato in grado di rifornire quell'isola con nuove pietre grazie agli sviluppi tecnologici. Il crollo del rapporto riserva flusso quindi stock to flow dovuto al fatto che sempre più pietre venivano prodotte e portate sull'isola fece crollare quindi quello che era il valore monetario di queste pietre ovvero la funzionalità di riserva di valore. Continuare ad utilizzarle come riserva di valore diventò sempre più imprudente. Le pietre persero quindi la possibilità di essere commerciabili tra loro e quindi la funzionalità e caratteristica di mezzo di scambio. Sebbene i dettagli possano differire da caso a caso la dinamica di fondo di un calo di rapporto tra riserva e flusso è sempre stata la stessa per ogni forma di denaro che abbia perso la sua caratteristica di riserva di valore fino al collasso della lira libanese che stiamo vivendo oggi mentre registro questo video. Una storia molto simile si verificò con le perline colorate che venivano utilizzate come moneta nell'africa occidentale. Poiché in africa la tecnologia della produzione del vetro non esisteva queste perline erano estremamente preziose e rare. Erano anche commerciabili nello spazio in quanto molto facili da trasportare. Al contrario queste pietre non erano affatto preziosi in europa perché qui potevano essere prodotte in grandissima quantità grazie allo sviluppo tecnologico dell'industria vetraria. In altre parole nel vecchio continente avevano un basso rapporto tra riserva e flusso. Quando gli europei scoprirono il ruolo che le perline colorate avevano in africa furono in grado di acquisire dagli africani moltissime risorse in cambio di semplici perline che a loro costavano niente. L'incursione europea quindi trasformò le perline da denaro difficile a denaro facile distruggendone il potere d'acquisto. Gli africani che ne possedevano si impoverirono mentre gli europei si arricchirono. La storia come si può intuire è molto simile a quella di Okefi. Tuttavia essendo le perline molto piccole questo processo in africa durò tantissimi anni. Si trattò quindi di un processo di impoverimento lento, subdolo, latente con conseguenze di più ampia portata e tragicità. Il crollo verticale del valore di un mezzo monetario sebbene sia comunque un evento tragico è un evento che dura poco e quindi le persone possono iniziare una nuova vita iniziando a fare calcoli economici col nuovo mezzo monetario. Il graduale esaurimento di valore monetario sul lungo periodo invece consente un trasferimento di ricchezza molto lento, difficile da osservare, prolungato e perfino più profondo dai detentori della moneta verso coloro che possono produrla molto facilmente. Questa è una lezione che vale la pena ricordare ogni volta che si legge una qualche dichiarazione della banca centrale europea o della federal reserve. Un ultimo caso storico riguarda le conchiglie utilizzate per molti secoli come mezzi monetari in nord america africa e asia per lo stesso motivo per cui venivano utilizzate le perline colorate ovvero erano difficili da reperire. Le conchiglie al pari delle perline avevano anche un altro svantaggio ovvero non erano tutti uguali ragione per cui prezzi e proporzioni non potevano essere facilmente misurati e questo fattore era indubbiamente di ostacolo alla crescita economica e di specializzazione. L'offerta delle conchiglie subì un forte aumento che ne causò la perdita di valore e quindi la commerciabilità quando le barche cominciarono ad allontanarsi dalla costa. Infatti alla fine con tecnologie sempre più avanzate le barche erano in grado di allontanarsi dalla costa pescare tutte le conchiglie di cui avevano bisogno e tornare a riva e quindi nel 1661 le conchiglie cessarono di essere moneta legale. Altre forme di denaro includono il bestiame ma poiché era molto difficile dividerlo spesso si accompagnava un'altra forma di denaro che era il sale. Di questi fatti storici ne è rimasta traccia nella lingua di tutti i giorni. pecuniario deriva da pecus che vuol dire bestiame in latino mentre salario deriva da sal che vuol dire sale. Con l'avanzare della tecnologia in particolare quella applicata alla metallurgia gli esseri umani furono in grado di sviluppare forme di denaro sempre più evolute in grado di scalzare spontaneamente quelle più primitive. I metalli in particolare si dimostrarono un mezzo di scambio migliore di conchiglie e perline potendo essere ridotti in piccole unità tra loro uniformi e di elevato valore per singola unità di peso. Ma il chiodo definitivo nella bara delle monete primitive giunse con la diffusione dell'energia a idrocarburi in grado di aumentare rapidamente la capacità produttiva di ogni settore manifatturiero e industriale. Le forme di denaro rese tali dalla rispettiva difficoltà di produzione essenziali a mantenere un alto rapporto tra riserva e flusso ovviamente sparirono. Grazie ai moderni combustibili le pietre rai potevano essere facilmente prodotte. Le perline colorate potevano essere prodotte a costi più bassi e le conchiglie potevano essere raccolte in grandi quantità da grandi imbarcazioni. I capi dell'isola di Yap che rifiutarono le pietre di Okefi prodotte facilmente grazie a tecnologie superiori capirono contro voglia ciò che la maggior parte di economisti e giornalisti moderni non riescono proprio a capire. A presto con il prossimo video e se ti è piaciuto non dimenticare di iscriverti al canale. A presto ciao ciao!